Nessun pericolo per la salute umana dalla mucillagine che in questi giorni ha infestato le acque del mare lungo il litorale abruzzese. Le rassicurazioni arrivano direttamente dall'Agenzia regionale per la tutela ambientale dopo le analisi effettuate dai laboratori dell'Arta, come spiega il Tg8 al direttore regionale Maurizio Dionisio. Cosa sta accadendo in questi giorni al nostro mare? Sta accadendo un fenomeno del tutto naturale, la mucillagine è un fenomeno naturale che si crea nelle acque marine anche a causa delle elevate temperature proprie di questi giorni. Il fenomeno è nato in Veneto, piano piano la massa di mucillagine si è spostata, altre agenzie regionali per l'ambiente l'hanno avvistata dalle parti delle marche e ora è arrivata anche sulle nostre coste. È un polisaccaride, un aggregato di zuccheri filamentoso che non desta preoccupazioni per la salute umana. Quando se ne andrà questa mucillagine? Appena le condizioni meteomarine saranno tali da spostarla verso il sud d'Italia. Questa mucillagine è stata analizzata? Abbiamo sì nei nostri laboratori del personale specializzato perché già siamo stati impegnati con la famosa o famigerata Ostreopsis ovata che era invece in questo caso un'alga non del Mediterraneo ma un'alga che proveniva dai mari tropicali che poteva provocare problemi per la salute umana. Mentre questa, come ho già detto, è un fenomeno del tutto diverso. La qualità però in generale delle acque di balneazione rimane soddisfacente se non ottimale al di là di qualche punto di criticità che in realtà conosciamo molto bene e si presenta tutti gli anni. L'alga tropicale a cui si fa riferimento rimanda la scorsa estate quando il litorale di Vasto fu interessato della presenza di quest'alga arrivata nell'Adriatico. Con la chiglia delle imbarcazioni che trasportano dall'Oriente le merci e anche con le acque di Sentina, quindi le acque che vengono normalmente incamerate per questione di equilibrio ritengo delle navi. Quando vengono scaricate in porto ecco che escono anche non solo alghe ma anche specie ittiche che non sono autoctone, ricorderemo il famoso granchio blu. C'è pericolo per le nostre specie autoctone? Sì, il nostro ecosistema ha degli equilibri che si fondano sulla convivenza tra specie autoctone. Quando vengono importate specie diverse si creano dei problemi. Cosa provocava quest'alga tropicale? La sua nebulizzazione quando si frangeva sugli scogli creava una potenziale inalazione nociva per le vie respiratorie. La casistica medica ricorda di svenimenti, enfisemi, sensazione urticante e quindi è un'alga che qualche problema dà. Però di quest'alga in questo momento non c'è più traccia, ci pare di capire? Fortunatamente i nostri laboratori e le acque oggetto di analisi ad oggi non hanno più rinvenuto questo tipo di alga nociva.